Buongiorno a tutti, oggi parliamo con Paolo Vittoria. Paolo Vittoria è docente di pedagogia all'Università Federico II di Napoli, è uno dei massimi studiosi italiani e non solo direi anche europei del pensiero dell'opera del lavoro di Paolo Freire. Di recente ha pubblicato un libro molto interessante di tab edizioni che si intitola proprio Paolo Freire un alfabeto di speranza. Ecco e con Paolo Vittoria parliamo oggi di Paolo Freire che è certamente uno dei pensatori più importanti del novecento che ha lasciato una eredità straordinaria non soltanto in campo pedagogico, adesso ne parleremo con lui e capiremo e capiremo meglio. Senti intanto due parole per raccontare a chi non ne sa molto chi era, chi è stato e che cosa ha fatto Paolo Freire. Beh intanto grazie per l'invito e per l'opportunità di dialogare su questo grande educatore e pensatore del nostro tempo. Paolo Freire è stato una persona che ha fatto della sua umanità, della sua sensibilità, della sua indignazione rispetto a quelle che sono le condizioni di ingiustizia, di oppressione, di diseguaglianza la ragione del suo lavoro e quindi è stato un educatore che ha attraversato la seconda metà del novecento e l'ha attraversata in maniera non indifferente, in maniera non indifferente a quello che gli accadeva attorno e attorno voglio dire accadevano cose anche diciamo situazioni vissuti molto forti dal punto di vista storico. Lui ha attraversato la dittatura militare in Brasile e nel 64 c'è stato il colpo di stato ed è stata quella la ragione poi dell'esilio dal suo paese. Forse se vogliamo parlare della sua biografia l'esilio è magari il punto di vista più particolare anche perché un po' assurdo se la pensiamo ingenuamente come mai un educatore che aiutava le persone più povere a imparare leggere e scrivere non in maniera meccanica ma riflettendo quindi attraverso un processo di coscientizzazione poi viene incarcerato e esiliato dal suo proprio paese, una domanda che è necessario farsi e la ragione sta in una forma in una pratica dell'educazione che incentivando il dialogo metteva le persone quelle escluse dal sistema ufficiale nella condizione di riflettere criticamente sulla propria realtà e quindi questo non andava bene, non andava bene al governo militare, non va bene ai settori più autoritari, tuttora sono molto forti in Brasile, Ferreri è morto nel 97 ma la sua memoria continua a essere in qualche modo perseguitata da un settore dell'estrema destra, dal recente presidente del Brasile Bolsonaro che proprio personalmente lo ha insultato più di una volta. Senti tu hai usato un'espressione poco fa secondo me molto importante perché hai parlato del suo modo di porsi come educatore usando il dialogo ecco forse questo è uno dei tratti distintivi anche del suo pensiero di educatore e del suo pensiero di pedagogista, cioè giusto? Sicuramente sì ed è un dialogo che non è neutrale, non è un dialogo spontaneo, è un dialogo che è mediato continuamente da quelle che sono le produzioni di significato che ognuno di noi fa intorno a un oggetto di conoscenza e queste produzioni di significato tanto più sono complesse quanto più è profondo e critico il modello di educazione. Quindi lui è tornato negli ultimi libri sul tema del dialogo ad esempio Pedagogia dell'autonomia è un libro tradotto in italiano ma anche libri che non sono tradotti ancora come Cartas a che osa insegnare, Lettere a che osa insegnare, in cui parla direttamente come in forma di lettera a una professoressa ci richiama in questo modo anche un nostro carissimo educatore come Don Milani ma sono due libri diversi insomma però il metodo della lettera ecco la forma letteraria è simile e lui era preoccupato dal fatto che la sua idea di dialogo potesse essere equivocata come una chiacchierata, una semplice chiacchierata in aula, a scuola e quindi banalizzata da uno spontaneismo. Invece è tutt'altro che spontaneismo, ha un'intenzionalità sia dal punto di vista epistemologico della conoscenza sia dal punto di vista politico dell'emancipazione degli oppressi e questa intenzionalità poi si traduce in una pratica dell'educazione cioè il dialogo in Freire non lo vediamo solo teoricamente, lui lo descriveva anche come necessità ontologica. Nella sua stessa biografia come dicevi avevamo fatto accenno nella prima domanda alla biografia ritroviamo il suo pensiero quindi la biografia di Freire è importante non tanto per conoscere quello che ha fatto, la sua storia, ma perché il suo pensiero sta proprio nelle radici della pratica. Quindi lui iniziò queste campagne di alfabetizzazione nel nord-est del Brasile rompendo completamente con una tradizione didattica che era quella di frasi precostituite che poi si diffondevano ai alfabetizzanti in modo uniforme e che poi rappresentavano l'opportunità per una scomposizione in sillabe e un'alfabetizzazione in sostanza tecnica malienata dal significato perché erano frasi che non avevano nulla a che vedere con quella realtà. Evo vivo a uva per esempio che Evo ha visto l'uva ma Evo non è un nome comune in Brasile, nel Sertao l'uva non la vedevano proprio, quindi era un qualcosa magari in Italia aveva senso, ma in quel Brasile in quell'epoca no. O ancora peggio Ada deudedo a Urubu, vuol dire Ada ha dato il dito a Urubu, che è un uccello rapace e quindi insomma è chiaramente un qualcosa completamente lontano dalla realtà. Lui il dialogo serve a rompere questa distanza tra parole e significato. Paolo Freire usa molto spesso una espressione molto interessante e lui parla di pedagogia bancaria. Ecco, che cosa intende esattamente Paolo Freire quando parla di pedagogia bancaria? Cosa vuole dire? Ma lui utilizzava questa espressione di pedagogia bancaria o pedagogia archivistica, nel senso che i saperi si accumulano come in banca, come d'archivio, e poi vengono spesi diciamo come una conoscenza che si possiede e non ci porta invece all'essere, non ci porta invece a vivere quel dialogo e quindi lui poi contrappone l'educazione bancaria, un'educazione problematizzatrice di problematizzazione, di dialogo, di coscienza critica. La scelta del termine è molto suggestiva, nel senso che lui dava questo senso appunto di accumulazione, ma oggi noi viviamo un'educazione bancaria nel vero senso della parola, proprio del vocabolario, perché oggi noi comunemente utilizziamo espressioni come CFU, che sono i crediti formativi universitari, che poi vanno a estinguere un debito formativo, per cui abbiamo interiorizzato un linguaggio che ci fa vedere gli studenti come dei debitori rispetto a un modello, ed è qualcosa molto grave dal punto di vista della costituzione del vissuto dell'università, quindi della scuola anche. Senti, possiamo quindi dire in un certo senso che forse Paolo Freire aveva capito, aveva intuito dove saremmo andati a parare, perché lui parlava di pedagogia bancaria 30 anni fa, forse anche di più, adesso siamo, tu lo dici, in piena pedagogia bancaria, perché usiamo parole tipiche, credito, debito e così via, quindi lui aveva già intuito tutto questo? Ma sicuramente come grandi pensatori lui aveva letto quel mondo, quel contesto, in maniera critica, e quindi andando a cogliere degli aspetti che vanno oltre quel tempo e quello spazio geografico. Non solo Freire, ovviamente, ma tutto quel movimento che è anche in Europa, quel movimento di cooperazione educativa, ad esempio, o educatori, educatrici, che si sono opposti a un modello che qualcuno ha definito bancario come Freire, o come Milani, insomma, era la scuola classista, ovvero un sistema di scuola che poi finisce, o di università, che finisce per riprodurre delle diseguaglianze, piuttosto che andarle a risolvere attraverso anche la cultura e la conoscenza. Per cui sicuramente lui ci aveva visto molto avanti, anche quando parlava di coscienza critica e coscienza ingenua. Lui diceva la coscienza ingenua che poi è una conseguenza dell'educazione bancaria, è una coscienza che non si domanda, non pone in questione, non problematizza appunto, è una coscienza che accetta la realtà così com'è. Danilo Dolci faceva l'esempio dell'educare le persone, educare i cavalli, con i paraocchi, quindi vedere solo quello, non aprire altri orizzonti. E poi diceva che la coscienza ingenua può diventare una coscienza fanatica quando la società massificata vive un forte e rapido avanzamento tecnologico non sostenuto da un'adeguata cultura educativa. Ed è quello che stiamo vivendo esattamente. Io chiuderei con una battuta a questo punto però. Tu però fai anche il docente universitario. Come docente universitario devi anche fornire degli strumenti, delle conoscenze. Come fai a conciliare questa esigenza con l'esigenza di dialogare? Cioè tu con i tuoi studenti dialoghi o anche tu poi alla fine devi trasmettere delle conoscenze e degli strumenti? Ma diciamo i due elementi non sono secondo me escludenti tra di loro. Noi prendiamo un tema di conoscenza, adesso stiamo parlando di Freire, ma non potremmo parlare di altri autori, autrici o elementi della pedagogia. Lo costruiamo in maniera rigorosa, lo costruiamo attraverso quella che è la conoscenza anche trasmessa rispetto a quell'autore ad esempio. Però il gioco non finisce qui, a partire da questo o durante anche la costruzione poi si inserisce il dialogo, si inserisce il dialogo perché quell'autore che cosa ti dice? Quando noi parliamo di coscientizzazione ad esempio, che cos'è per te la coscienza? Voi vedete oggi degli elementi di una coscienza ingenua, cosa vuol dire omologazione? E quindi è una continua problematizzazione di un tema di conoscenza e questo non vuol dire meno rigore, anzi vuol dire più rigore metodologico perché poi devi entrare nei fenomeni della conoscenza, ma non da solo, questo è il punto, c'è una cosa che ci entri da solo come insegnante e poi ti aspetti che gli studenti te lo restituiscono come l'hai vista tu, un'altra cosa è che ci entri insieme agli studenti e quindi poi ti sorprendi perché hai punti di vista diversi, perché magari la stessa tua conoscenza viene messa in crisi ed è giusto che sia così, altrimenti non è una conoscenza critica, altrimenti è una conoscenza bancaria. Grazie a Paolo Vittoria, ricordo ancora il suo ultimissimo libro su Paolo Freire, Paolo Freire è un alfabeto di speranza, edito da Tab Edizioni, compratelo ma soprattutto leggetelo perché davvero è uno strumento proprio per entrare nel pensiero di Paolo Freire e che sicuramente vi invoglierà anche a leggere altre cose di Paolo Freire se non le avete mai lette, perché le prospettive che questo libro apre sono davvero molto molto interessanti. Mi abbiamo dato un piccolo assaggio in questo dialogo che abbiamo fatto con Paolo Vittoria, ma certamente il libro contiene ancora molte altre suggestioni. Grazie davvero Paolo Vittoria, grazie a te. Grazie, grazie Reginaldo, grazie a tutti voi. Grazie a tutti.